La richiesta dell'Associazione Pangea all'amministrazione comunale per utilizzare gli spazi dell'area dei campi di rugby di Iolo per portare avanti i progetti e le attività iniziate e interrotte dal Covid e dall'impossibilità di sostenere l'aumento dell'affitto nella stanza di San Paolo sarà sostenuta anche da Fratelli d'Italia. Sembra che ci sia una richiesta sensata, cioè questi sono gli spazi che sono a disposizione dell'Associazione Aurora che insieme a Pangea hanno creato un connubio che da anni funziona e quindi ci sembra di buon senso riuscire a trovare una soluzione all'interno di questa struttura. Quando abbiamo la possibilità di valorizzare esperienze positive del territorio, secondo noi non ci deve essere una divisione fra maggioranza o minoranza. Abbiamo tanti punti diversi con la maggioranza su tante questioni, ma su questa io credo che dobbiamo usare il buon senso. L'appello ad avere una nuova area in cui fare attività arriva dagli stessi soci utenti. Quindi quest'area è ideale per fare non solo continuare l'esperienza che avevamo, ma il nostro sogno è quello di incrementare, incrementarlo alla società perché l'area è bella e le proposte, i progetti che abbiamo sono diretti al cuore delle persone. Fratelli d'Italia quindi è pronto a votare in Consiglio Comunale la soluzione proposta, ma in tempi brevi. Noi abbiamo chiesto tempi certi, abbiamo dato al Comune un mese di tempo per risolvere la situazione in quanto questi ragazzi non possono neanche perdere un giorno della loro attività perché per loro è diventato un punto fondamentale della loro vita e quindi noi istituzioni dobbiamo accelerare e far sì che questo tempo veramente sia ridotto.